Firenze è il paese che amo, dove io sono nato e avendo il sangue viola io tifo la Fiorentina. Ho deciso di comprare la viola perché Cribbio e della valle mi hanno rotto lo cazzo. Paolo Sosa a casa. Battistiuta sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Cribbio! Regaleremo a tutti i cittadini fiorentini l'abbonamento allo stadio e Cribbio, perché no? Anche un panino con il lampredotto, salsa verde piccante e una bottiglia di Chianti Classico. E con questo io non voglio comprare nessun voto ai fiorentini. E con estrema onestà che annuncio a tutti voi un campionato sensazionale. Una persona onesta come me possa guidare al grande successo una squadra come la Fiorentina. Cribbio, questa bufala inventata dai comunisti che io sono milanese, è ora di smentirla. Io sono nato a pane e lampredotto. Mi ricordo ancora quando facevo il bagno nell'Arno, cresciuto a Campo di Marte, a un passo dallo stadio. Oggi sono onorato di dare ai fiorentini quello che è di Firenze. La cotoletta alla milanese sarà un piatto tipico fiorentino. Faremo il lampredotto con il risotto allo zafferano. L'ossobuco sarà un piatto tipico di sesto fiorentino. Saranno finalmente contenti i cittadini di Firenze. Con questo è tutto, vi saluto e sempre forza, Viola, Viola, Ale Ale!